Arriva l'ennesimo diktat dall'Europa all'Italia. Dopo le etichette shock sul vino, la casa green che impone costosi lavori di restauro ai proprietari, ora si aggiunge anche il nuovo regolamento sull'uso sostenibile dei pesticidi, che impone all'Italia di ridurre del 62% l'uso dei fitofarmaci. Per gli agricoltori un fulmine acce il sereno. In assenza di difesa dai parassiti e dalle malattie, si stimano pesanti cali nelle produzioni di grano duro, che scenderebbe del 70%, ma anche di olio, pomodoro, riso e mais, settori in cui l'Italia vanta buoni livelli di coltivazioni. Il settore agroalimentare vale 550 miliardi di euro, pari al 15% del PIL. Da 5 anni ormai il nostro paese fa grande attenzione all'uso dei fitofarmaci, nei campi ridotti già del 38%. Oggi sono 2 milioni e 200 mila gli ettari di terreno convertiti a biologico. L'Italia in Europa deve difendersi anche su questo fronte con la crisi energetica, che si fa sentire ormai da mesi un vero tsunami per tutto il comparto. La Commissione europea avanza delle proposte irricevibili di ulteriore riduzione di un 80% dell'impiego di prodotti fitosanitari. Questo porterebbe a una drastica riduzione delle rese della produzione agricola, che va da un 60% a un 80% in meno. Noi dobbiamo avviare un'ulteriore transizione ecologica dell'agricoltura in tempi e modi dovuti e non farci imporre tutto quanto dalla Commissione europea.